Dopodiché però questo è il tema, oggi parlare del totonomi della presidenza della Commissione europea così come dei commissari europei secondo me è buono per fare un po' di dibattito sulla stampa ma non è il tema, è il vero tema che noi dobbiamo porci e che cosa debba fare la Commissione prossima e lì io posso dirle perché questo vorrei fosse il dibattito dei prossimi mesi, non il totonomi che inevitabilmente ci ritroveremo ma io lavoro per avere domani una Commissione europea e conseguentemente una politica europea che sappia essere più forte quando deve farsi sentire negli scenari dei crisi.